aiutami a calmare questo libro ciao bimbi oggi leggiamo il libro arrabbiato accipicchia il libro è rosso per la rabbia lo vedete? che bronzo avviciniamoci chiediamogli un po' che cos'è che non va? lasciami stare caspita quanto è arrabbiato lasciamolo solo con il suo bronzo proviamo a metterci in un angolino e vediamo se gli passa ora va meglio ancora ha quel muso brutto contiamo fino a 10 magari poi si calma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 vediamo vediamo un po' se si è calmato ecco vedete? ora sa meglio però è ancora tutto rosso diciamogli un po' sembri un grosso pomodoro guardate ora è ora che ci spieghi perché è tanto arrabbiato avviciniamoci sicuramente ce lo dirà all'orecchio guardate vediamo un po' vediamo un po' che succede si ci siamo la rabbia sta passando diamogli un bacino e facciamogli tante coccole ecco vedete? nulla di grave è tutto a posto diciamogli tutti insieme bravo sei riuscito da solo a calmarti grazie avete visto? è passato tutto così è molto più bello diciamogli tutti insieme ora non sembri più un pomodoro ma un limone bello maturo ciao bimbi vi è piaciuto? un bacio ciao ciao